Signor Cortella, come si è adotta un bene comune? Allora, è possibile, grazie al regolamento per l'adozione dei beni comuni, che alcuni comuni della provincia, tra cui quello di Vercelli, hanno adottato, c'è la possibilità per chi, commerciante, imprenditore, singolo cittadino, gruppo o associazione, voglia in qualche modo prendersi cura di un pezzo della propria città, del proprio paese. Può essere una fioriera, può essere un'area verde, può essere un servizio. Attraverso il progetto Adotto Bene Comune, ha la possibilità di contattarci ai nostri recapiti, quindi indizzi email, pagina Facebook, siti, e insieme potremo compilare la scheda per fare richiesta al comune e seguire tutto l'iter. Cosa comporta? Comporterà poi l'adozione vera e propria, quindi la possibilità di manutenere questo bene per un tot di mesi, un tot di anni, dipenderà da quanto verrà stabilito con il patto di collaborazione con il comune, e dare la possibilità ai cittadini di rendere più bella la propria città e anche in qualche modo di farsi un po' di pubblicità, quindi avere la possibilità di far conoscere le proprie iniziative attraverso questa adozione. Signor Santarella, lei ha detto che questo è anche un nuovo modo di comunicare, parliamo delle rotonde davanti alla sua azienda, che da tempo hanno un bel aspetto e comunicano un'immagine positiva dell'azienda. Assolutamente sì, è un modo diverso di comunicare, noi veniamo da questa esperienza positiva in accordo con la provincia, che oramai esiste da 12 anni, che ci ha permesso di prendere in affidamento queste rotonde e la loro manutenzione. E devo dire che effettivamente è un modo per comunicare perché noi, a parte sulle rotonde, abbiamo gli spazi per apporre i nostri cartelli con le comunicazioni del mese, della settimana, quindi e in più creare un ingresso alla città sempre pulito, sempre ordinato, perché il problema di queste aree verdi non è sempre averle belle ma manutenerle nel tempo, perché il problema è l'irrigazione, i tagli, le decorazioni a tema durante determinati periodi dell'anno. Quindi declinare questa possibilità sulla città e quindi su, ovviamente, ambiti più piccoli, ma le rotonde le abbiamo anche in centro, le fioriere e gli spazi verdi, quindi manutenerli, gestirli e apporre i nostri insegni, i nostri login, le auto delle proprie aziende, dei propri negozi, è sicuramente un triplice vantaggio, quindi un vantaggio per la città, per i cittadini che comunque hanno bisogno di stare in una bella città e stare in una città bella e sempre bella, e per i commercianti quello di comunicare in alternativa ai soliti strumenti, che sono la stampa, la radio, che sicuramente va bene, ma siamo convinti che in questo modo sensibilizziamo di più. Ma la gente se ne accorge? Assolutamente sì, dipende cosa faremo noi per far sì che se ne accorgano, perché questo dipende da come brandizzeremo le aree e da come le faremo a manutenzione, perché se la manutenzione viene fatta in maniera dedicata, in maniera attenta, siamo convinti che l'utente, il cittadino, se ne accorge. Se ci limitiamo a bagnare il verde che già esiste, probabilmente non se ne accorge nessuno.